Sono risorse strategiche per la transizione digitale, quindi la sostenibilità, ma per l'innovazione, per rafforzare la catena del valore e anche ovviamente le competenze e la formazione. Quindi sono una sfida importante che il Lazio è pronto a cogliere, anzi per quanto riguarda il Fondo di Sviluppo e Cosione siamo stati la prima regione italiana ad aver presentato il programma, un programma ambizioso che vale 1 miliardo e 200 milioni.